mmmm non vuole come si è messo IGO? dietro dove sono? sono hanno già perso? sono usciti? sono già crepati e ha perso il loro l'acciale flyer fatto vabbè bella lobby questa raga da me rotto rotto fatto occhio ho bisogno di una mano ce l'ho davanti, ce l'ho davanti, ce l'ho davanti, ce l'ho davanti grande Faffone io ne ho fatto una occhio che è ancora lì Faffo oh marda bravo 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 te lo chiudo cazzo mi chiama? ah francesco arrivo 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 da voi arrivo da voi cazzo di anti bunker che mi ferma flyer, flyer da te pedrito ok pieno 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 si 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 oh pronta amore mi sta full chiamando Franceschi quindi sono morti si si ok c'era uno qua ultima uccisione guarda lì sono due sono due ok mi avvicino mamma mia ho visto che shot uccide fatto fatto questo ecco qua ecco qua eccolo bravo sto gioco è assurdo tu non hai idea troppo bello c'è un HP se vi serve anche tetto 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 attenti bravo ho trovato le mie armi godo full ora non ci picca ora non ci picca tetto lo picco io ho sbagliato l'arma fatto sono morto da un cecchino però c'è un cecchino attenti sempre lì però secondo piano ok l'ho visto l'ho visto l'ho visto niente no c'è uno davanti ciao francese buongiorno amore si resta si resta da me 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 ma che cazzo si resta da me bingo qua sono tanti eh sono tanti attento siamo già quattro amore c'è uno c'è una lodi craccato craccato fatto fatto fatta scurati arrivo fa fa ti pushano sono due eh una a terra fa fa credo da sopra 2 a terra 2 a terra vai te lo mangi c'è un altro fatto fatto un altro mamma che shot ragazzi li ho attivati ma c'è un quel figlio di puttana che mi ha preso di mira è fighissimo sto gioco non mi fa restare ok uno l'ho visto uno mi puscia sono intrasicuro ma che c'entra questo c'è l'ultimo craccato uno craccati due fatto 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 l'ultimo l'ultimo infatti gli altri chiamati adesso devi vado a ripetere le armi dove sono morto prima va' 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 non ci fai più cazzo vabbé che bello avevi dei putt per me ehh si 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 piastre 6 poi se trovi la sacca ne hai 12 esatto arrivo ci sono no dietro di me grande sopra tetto tetto attenti fatto mamma mia se il dio fatto quello bro ho visto ti smocco ha pushato sto restando sta comunque su è fesso perfetto ma i pazzi sono una merda si bro si si sono senza non capisci niente indico posizione corazza cazzo di roba vai andiamo ad api per il tro sono quattro full team full team so ok dobbiamo trovare un'altra no no eh niente mi lascio andare eh bravo è cambiato tutto franceschi è un altro gioco questo praticamente bellissimo ma che cazzo no mi sono schicciato io dalla frete arrivo faffa arrivo 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 aspetta io vado a restare eagle vado a restare eagle vai vai ci sono passato sotto non mi è andato al corpo ma io posso salire ora a catturare bombia si provate io vado a restare ma fra è troppo figo sto gioco ti giuro arrivo pushano ci pushano no no ah si ecco fattu uno fattu uno siamo 3v3 ora 3v3 avete lo sciacquo ok ho preso i soldi avete lo sciacquo torretta robot che vogliamo fa vai ti smacco faccio anche web io c'ho ragazzi i soldi tu hai tirato un bomb io soppie i soldi sto salendo bravo saliamo 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 ora 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 ho bisogno di una mano tu hai tirato i soldi vai let's go bravi c'è sacca qui abbiamo il tento nice fai l'arma meta infatti è la seconda più forte la devo solo livellare la prima è lxm4 io però non ho la build poi te la do io te la do io la build si ma ce l'ho a livello 8 mi raccomando oh 18 kill parco 2 si vuole e questo va su youtube ragazzi ok se lo butti giù ho il PA ah gente anche lì centro safe si andiamo andiamo prendiamoci quel punto che è più alto quel punto passi da me è craccato fatto chiuso vai resti ti smocco smocco full io vai 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 occhio eagle eh siete solo c'hai dietro eagle ferito qua sotto traccato fatto ok rimancano due mancano due sono singoli ok neido vai il volo let's go let's go è l'olio è veramente è che è che è la è l'olio è è Grazie a tutti